Un nuovo maxi punto vendita dedicato alla tecnologia in via Castelleone a Cremona. Oggi l'inaugurazione di Comet, riservata però agli addetti al settore, mentre domani ci sarà l'apertura ufficiale al pubblico. 4.500 metri quadrati, uno staff di 30 persone, questi i numeri dello store. Vogliamo fare una grande promessa al pubblico di Cremona, che è quello di vogliamo volergli bene, tanto bene, e quindi vogliamo fargli trovare tutto quello che è lo stato dell'arte e della tecnologia. Abbiamo una forte integrazione tra il fisico e il virtuale, con un catalogo estremamente esteso, con una grandissima attenzione alle novità. Oltre all'area negozio, con elettrodomestici e tecnologia, ce n'è anche una riservata ai professionisti, con il materiale elettrico. Samuele Morenghi, lei è responsabile di un'area speciale e dedicata ai professionisti. Assolutamente sì, una cosa innovativa, credo, per Cremona, è tendenzialmente tutto quello necessario all'installazione elettrica, che va dall'impianto fotovoltaico alla domotica per impiego di uso civile ed industriale. E peraltro c'è anche una zona dedicata all'illuminazione d'arredo, quindi per professionisti del settore. Finalmente inauguriamo, è stato un percorso ad ostacoli, nel senso che siamo partiti con la progettazione in agosto del 2018 e inauguriamo oggi, a luglio 2019, quindi un anno scarso e in un anno scarso siamo riusciti a fare una struttura di una certa complessità. E qui è stato allestito anche il salottino del futuro. Facciamo una prova. Alexa, accendi la tv. Ok.